Fermi sul mare del litorale Domizio, per niente, guardate, c'è addirittura chi pesca telline lì dove le acque sarebbero inquinate e se ci sono le telline, se c'è vita in quest'acqua non possiamo parlare di inquinamento, la gente ormai non crede più alle favole dei media, guardate quante persone sono nelle acque, poche rispetto al passato, certo, l'allarme diffusa dalle media è stato disastroso, però ormai ci sono calmati, ci sono bambini che giocano, bambini che fanno il bagno. Le acque del mare sembrano davvero chiare e pulite.